Ringrazio moltissimo Forum PA perché con questo lavoro ormai pluriennale spinge tutte le amministrazioni a fare sempre meglio e apre le strade a vari fronti. Noi l'anno scorso ci siamo piazzati nella top 10 dell'IoT e quest'anno in questa quindi è un grande vanto ma anche una grande spinta a migliorarci sugli altri settori, gli altri sei settori che ancora entriamo nella top 10. Ogni volta scagliamo 10 posti nella classifica complessiva quindi vuol dire che lo sforzo iniziale adesso porta anche i suoi frutti e i suoi frutti li sta portando anche nel rapporto con il cittadino. Il cittadino sempre di più utilizza questi strumenti specialmente per gli servizi più semplici ed essenziali e non è solo un fruttore di servizi ma anche un autore di servizi nei confronti dell'APA nel senso la segnalazione dei guasti aiuta l'APA a far sì che noi siamo più attivi più proattivi alla riparazione. Il fatto che abbiamo un sistema di prenotazione online quando c'è stata la vaccinazione è stata utilissima, il sistema di attivazione dell'accessibilità nei confronti dei servizi digitali ci è stato spinto dal terzo settore di aiutare chi ha i sei basso e le persone che sono avanti con l'età perché questa trasformazione sia non più un elemento che divida ma che unisca e faccia sì che tutti possano utilizzare i sistemi digitali. Chiudo per dire la prossima sfida sarà la Human Smart City cioè la città digitale basata sul capitale umano, sull'essere umano. Grazie a tutti.